Ed eccoci al nostro telegiornale provinciale dedicato alle province di Bari, Bat e Foggia. Iniziamo con la cronaca, con il maltempo che ha messo in ginocchio il gargano. Infatti nelle ultime ore c'è stata una forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul gargano meridionale causando notevoli disagi alla circolazione stradale con allagamenti. C'è qualcuno che ha anche approfittato per utilizzare nei centri urbani le cosiddette moto d'acqua. Ma vediamo il riepilogo di quello che è successo la scorsa notte, anche stamattina, nel gargano con il pezzo di Attilio Scarano. A San Giovanni Rotondo c'è chi è salito in sella ad una moto d'acqua divertendosi a solcare i fiumi di pioggia creatisi in città. E' il lato più goliardico e desilarante della mega ondata di maltempo che dalla scorsa notte si è abbattuta sulla provincia di Foggia creando notevoli disagi soprattutto alla viabilità del gargano meridionale. Acqua che in alcuni comuni del promontorio è caduta a copiosa creando allagamenti di oltre 20 centimetri e riversandosi poi a Vale dove si sono registrati smettamenti, frane e danni importanti alla circolazione. Qui siamo sui tornanti che portano alla città di Sampio e le immagini parlano da sole. Detriti e fanghi hanno reso impraticabili molte strade tra cui la SP26 che collega Foggia a San Marco Illamis passando per Borgo Celano e la SP28, la cosiddetta pede garganica, invasa da un mare di acqua piovana proveniente dalle montagne soprattutto nella zona tra Rignano Garganico e il torrente Candelaro. Non solo strade di campagna, vigili del fuoco e protezione civile a lavoro anche nei centri abitati dove si sono verificati allagamenti di boxe scantinati, oltre allo sbriciolamento di asfalto in alcuni punti a San Marco Illamis. Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone evacuate, danni minori anche nella zona nord del Gargano con allagamenti tra Cagnano, Varano e Schitella. Facciamo adesso un aggiornamento sulla situazione maltempo e disagi sul Gargano con un collegamento telefonico sempre con Attilio Scarano per sapere come stanno le cose al momento. in diretta. Te Attilio. Buon pomeriggio a voi, una tempesta di pioggia andata avanti per diverse ore, partita dalla nostra che si sta protraendo di fatto seppur in parte ancora adesso in alcuni punti della Capitanata in cui gli effetti stanno vedendo e come. La zona più critica al momento resta quella della fede garganica, la strada provinciale ventotto proprio sotto Pignano Garganico, zona assolutamente allagata, inaccessibile, sul posto dei vicini del fuoco, la protezione civile attrasse in salvo diverse persone, in macchine diverse persone nelle mascherie, mascherie ed aziende agricole che inevitabilmente hanno subito dei danni economici. Al momento c'è un elicottero che sorvola la zona a caccia di eventuali dispersi, diciamo eventuali, perché al momento le informazioni che ci arrivano ci dicono che non dovrebbero esserci dispersi, sono ricerche più a poco preventive, probabilmente non è facile tenere il conto degli abitanti, degli occupanti delle macchine in quella zona. San Marco e Lamisi il comune più colpito, come avete visto, dalle immagini di danni sono notevoli non solo di boxe scantinati ma anche del manco stradale, come avete visto, fortunatamente non ci sono feriti. Questi gli aggiornamenti a voi. Grazie ad Attilio Scarano, ovviamente vi terremo aggiornati sulla situazione dei disagi causati dal maltempo nel Gargano, nelle prossime edizioni dei nostri Tg ma anche sulle nostre pagine internet e facebook. Andiamo avanti adesso con altri temi sul lungomare di Bari, posizionata una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di abusi e violenza. Una panchina rossa sul lungomare di Bari per ricordare tutte le donne vittime di violenza e di genere e invitare a denunciare. E questa è l'iniziativa promossa dall'associazione Gens Nova e da numerose associazioni del territorio che ogni giorno combattono contro questa forma di violenza. L'obiettivo è, oltre a trasmettere un messaggio attraverso un simbolo collocato in un luogo molto frequentato della città, fornire un aiuto concreto a tutte quelle donne che sono vittime di violenza attraverso l'installazione di una targa che riporta il numero di emergenza 340-5600-875, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per ricevere le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenza e stalking che si possono rivolgere in pieno anonimato. Abbiamo i numeri dell'ultimo anno, sono circa 38 nei primi tre mesi, nel primo trimestre, quindi sostanzialmente il trend è lo stesso, una piccolissima oscillazione di morti, ma invece c'è stato un aumento spaventoso di violenze non sfociate in morte e che cambia poco, sì per carità, finché si è vivi va benissimo, però in realtà il fenomeno della violenza è ancora vastissimo ed è a mio avviso non ancora ben contrastato. Noi dal Codice Rosso noi per primi ci aspettavamo qualcosa di più, in realtà se si analizza il Codice Rosso nei dettagli diciamo che è più fumo che arrosto. La violenza sulle donne è un problema attualissimo che si è acutizzato anche durante il periodo del lockdown e le donne non devono avere vergogna nella denuncia di violenze di qualsiasi tipo e di qualsiasi età soprattutto. Riteniamo che al di là di questo momento simbolico bisogna socializzare tra le persone, tra la gente, soprattutto tra i giovani e quindi anche con l'intervento delle istituzioni a partire dalla scuola, un cambio di passo rispetto a quanto ogni giorno ci capita di ascoltare le violenze che le donne subiscono, specialmente tra le mura delle famiglie. Torniamo a parlare adesso di pandemia e vaccini con quest'ultima soluzione che comincia a prendere le piede anche tra i migranti in Puglia. Prosegue la campagna vaccinale di Coldiretti con la somministrazione della seconda dose di vaccino per i 300 braccianti delle campagne foggiane, tra i quali molti extracomunitari che in Capitanata occupano quasi un terzo della mano d'opera richiesta con oltre un milione di giornate di lavoro. Sono circa una trentina le aziende agricole del territorio ad avere aderito alla campagna dell'associazione di categoria per tutelare quella fascia di popolazione che può essere considerata invisibile soprattutto di fronte all'emergenza sanitaria, un impegno che si inserisce in una più ampia manovra di welfare sociale finalizzato ad una maggior tutela del lavoro nei campi. Penso che le immagini parlino da sole, ci sono circa già 300 persone che si vogliono vaccinare, sono tutti braccianti della provincia di Foggia. Salute e lavoro di pari passo per quello che riguarda le campagne foggiane. è un segnale importante, è un segnale positivo, vuol dire che gli imprenditori sono sempre più attenti a quelle che sono le esigenze del comparto agricolo, ma soprattutto sempre più esigenti per quanto riguarda la salute dei lavoratori. Fa il paio con le chiusure dei contratti provinciali, ci stiamo apprestando a chiudere il contratto provinciale del lavoro, quindi fa parte un po' di quello che è il welfare sociale e dell'impegno degli imprenditori agricoli foggiani per i braccianti all'interno del territorio. I braccianti sono collaborativi, cosa vi dicono? I braccianti sono collaborativi e contenti, anche perché in mezzo a loro ci sono molte persone che non erano state raggiunte dai messaggi, non erano state raggiunte dal sistema sanitario pugliese. E quindi grazie a questa possibilità sono riusciti ad avere la prima e la seconda dose, oggi abbiamo la seconda dose, in maniera veloce e rapida per essere anche loro tranquilli per quanto riguarda la battaglia al Covid, che è una delle priorità per quanto riguarda il nostro paese. Un'altra carta di identità? Come ha influito il lockdown, ma anche la pandemia sulla comunità ecclesiastica pugliese, la Caritas di Puglia ha fotografato il periodo nel suo rapporto annuale presentato questa mattina a Bari. Come ha influito il lockdown sulla Chiesa Cattolica? Si chiama Report Chiese Chiusa e Chiesa Aperta, la testimonianza della Caritana e le Chiese di Puglia al tempo della pandemia, il report a cura della delegazione regionale Caritas Puglia presentato a Bari nella sede dell'ente. Il primo lockdown, si legge nelle prime pagine del report curato dalla sociologa Serena Quarta, è stato un periodo in cui le Chiese sono state chiuse al culto pubblico a causa delle restrizioni, eppure la comunità ecclesiale ha vissuto il suo essere Chiesa in maniera forse ancora più dirompente che in passato, con una testimonianza di Carità che è stata un lievito che ha fatto fermentare la massa. Agli occhi di tanti un servizio inatteso, agli occhi dei credenti la naturale conseguenza dell'essere Chiesa, comunità dei credenti e degli amanti mai chiusa, bensì sempre aperta alla speranza. Un messaggio è che c'è il messaggio drammatico che praticamente i servizi che venivano fatti precedentemente già da Caritas si sono raddoppiati e quindi la drammaticità sta nel fatto che alcune problematiche si sono moltiplicate, raddoppiate almeno, con tutto quello che questo significa. Ci sono alcune famiglie che hanno un certo numero di figli e non possono affrontare i cambiamenti che sono in atto, ci sono famiglie che hanno un reddito non sempre dichiarato perché c'è una precarietà del lavoro e poi c'è tutta la questione anche di una povertà sommersa che avva rivolti. Grande partecipazione nei ghetti delle campagne foggiane per il tour della filiera etica no cap per selezionare braccianti a cui prospettare contratti di lavoro regolari. Sentiamo Antonella Davola. Chi vuole lavorare, chi ha i documenti a posto lascia i contatti a lei. C'è fame di diritti e di dignità tra i ghetti delle campagne foggiane ma un mondo nuovo fatto di contratti di lavoro regolari con paghe ed orari giusti è possibile perché reale e concreta è la volontà e l'impegno di alcune forze sociali per cambiarlo nell'immediato. Un esempio lo è la filiera etica di NOCAP, l'associazione internazionale per il contrasto al caporalato e lo sfruttamento del lavoro creata nel 2017 grazie soprattutto al contributo dell'attivista Ivan Sagné, insignito nel 2019 dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Sagné ha partecipato nelle scorse ore ad un tour di selezione dei lavoratori per la filiera NOCAP tra i ghetti delle campagne foggiane. Arricchito da un'assemblea pubblica sul lavoro regolare all'interno dei luoghi della contraddizione e del disagio, quale ad esempio Borgo Mezzanone, nei prossimi giorni i lavoratori selezionati verranno trasferiti verso gli alloggi confortevoli del villaggio Don Bosco della comunità Emaus da dove partiranno con i mezzi di trasporto NOCAP verso i campi dell'azienda Prima Bio. La grande partecipazione dei braccianti e raggiunti neghetti, la loro presenza, le loro voci al grido di tornate di nuovo, tornate presto, hanno dimostrato la consapevolezza del bisogno di un modello nuovo improntato alla solidarietà, integrazione, ma soprattutto legalità. Vedi NOCAP, va su internet, vedi NOCAP e ha tutte le informazioni. Lieto fine per la scomparsa dell'83enne di Polignano che dal pomeriggio di ieri ha tenuto col fiato sospeso l'intera comunità locale. L'anziano privo di telefono è stato confusionale, si era allontanato dopo mezzogiorno dalla propria abitazione ubicata in una zona di campagna fuori dal centro abitato di Polignano a mare, facendo perdere le proprie tracce. Subito dopo la segnalazione della scomparsa da parte dei familiari dell'83enne è stato attivato il piano provinciale delle persone scomparse con il coinvolgimento di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Le ricerche sono andate avanti ininterrottamente per tutta la scorsa notte e hanno visto impegnati i carabinieri del comando provinciale di Bari, anche numerosi uomini dei vigili del fuoco e dell'istaccamento di Monopoli, oltre che quelli di Bari. Un elicottero anche del sesto nucleo carabinieri di Bari è un drone. L'uomo che aveva fatto preoccupare è stato ritrovato prima di aver notato una ciabatta persa dall'83enne al margine di una stradina a qualche centinaio di metri dalla propria abitazione. Così con uomini a piedi, drone, unità cinofili, sono stati rastrellati tutti i campi circostanti non omettendo case rurali abbandonate e pozzi. Vedete nelle immagini, l'anziano è stato trovato nelle prime ore della mattina dai militari dell'arma, disorientato, scalzo, ma in buone condizioni di salute in un terreno arato nei pressi della strada comunale, a circa un chilometro in linea d'aria dalla propria abitazione. Adesso andiamo nel nord barese. L'impegno della regione Puglia a finanziare il patto territoriale del nord barese Ofantino finito per anni nel dimenticatoio. Tornerà ad occuparsi di progetti e finanziamenti. Sentiamo Francesco Zagaria. Territoriale nord barese Ofantino, uno spiraglio di luce c'è. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri regionali Francesco Ventola di Fratelli d'Italia e Ruggero Mennea del Partito Democratico, una mozione con la quale la regione Puglia si impegna a sottoscrivere l'accordo quadro e a finanziarlo per gli anni 2021, 22, 23 e 24. Dopo esser finito nel dimenticatoio, il patto punta a rilanciarsi nella realizzazione di progetti per lo sviluppo del territorio tutto che intercettino quanti più finanziamenti possibili nazionali e comunitari a beneficio della regione Puglia e dei comuni soci. In effetti sono stati anni difficilissimi negli ultimi tempi, però dobbiamo partire dalla grande lungimiranza che i sindaci di oltre 20 anni fa ebbero dimostrando che stando insieme si riescono ad attingere a tantissime risorse economiche, a beneficio di chi? Di tutte le imprese del territorio, il comparto agricolo, industriale, socio-economico, per cui non bisogna mettere da parte tutto quello che è stato fatto, anzi ripartire da quelle professionalità che negli anni si sono formate. È vero, gli ultimi anni sono stati anni difficili, ma perché c'erano poche risorse finanziarie in giro da poter attingere e anche i comuni hanno avuto delle difficoltà di natura economica e quindi sono state costrette a recedere anticipatamente alla scadenza naturale del patto. Ed è adesso, in questo momento, che interviene la regione Puglia che a seguito di una legge approvata la scorsa legislatura è nelle condizioni di poter sostenere finanziariamente attraverso l'attività di alcune commesse che sicuramente il patto territoriale può fare a beneficio del nostro territorio e anche del comune di Corato. Ad una condizione che i comuni tutti rientrino, o la maggior parte di essi rientrino, perché ci può essere una fase di rilancio in una fase storica in cui servono progetti e progettualità definitive, altrimenti dei tanti miliardi che sentiamo parlare in giro, nessuno può essere nelle condizioni di poterle attingere, attrarle e spenderle. Vendite record per vino primitivo e negro amaro. Pugliese, i prodotti dei nostri vigneti sono primi e quarti nella classifica degli acquisti dei clienti nella grande distribuzione. Sarà che si è bevuto per dimenticare che fuori ci fosse la pandemia, per concedersi un attimo di distrazione in un periodo zeppo di brutte notizie o perché, stando di più a casa, si è avuto il tempo per apprezzare la qualità di un vino che è il fiore all'occhiello della produzione pugliese. L'anno del Covid è coinciso con il record storico delle vendite di primitivo e negro amaro pugliese, più 23,5% per il primo in vetta agli acquisti della grande distribuzione italiana, più 14,6% per il secondo, quarto nella stessa graduatoria. E quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dei dati IRI, che includono anche le rilevazioni dei discount, di pari passo aumenta anche la produzione del biologico, rimarca Coldiretti. Un ettaro su otto di vigneto e bio in Puglia, con 17.000 ettari contro i 10.000 di quattro anni fa, è una decisa spinta alla transizione ecologica che ha portato le cantine pugliesi a prestare sempre maggiore attenzione all'ambiente, dal tappo in vetro alla chiusura innovativa carbon neutral, riciclabile al 100% e realizzata con materiali rinnovabili d'origine vegetale, fino al vigneto ad alberello di uve e sovignone in riva al mare, dagli occhialini utili ad immergersi nelle terre del Negro Amaro, fino al pesto delle foglie di vite. Sono solo alcune delle novità delle aziende. Capitolo a parte merita la diffusione del Wine Beauty, dalla crema viso alla linfa di vite, dallo scrub agli scarti di potatura, al gel di uva rassodante, fino alla crema antietà al nettare di uva. Ci spostiamo adesso a Trani, dove è stato recuperato lo storico Palazzo Ogni Santi, un edificio che risale al 700 e che adesso diventerà una struttura di punta dell'ospitalità pugliese, ma soprattutto dell'ospitalità di lusso. Torna ad abbracciare Palazzo Ogni Santi, la città di Trani, un recupero architettonico imponente per il palazzo adiacente alla chiesa di Oni Santi, dalla quale per l'appunto prende il nome. Il Palazzo Patrizio del 700, collocato sulla banchina di Trani, fu dell'avvocato Trombetta. Dopo anni di abbandono è stato rilevato dalla famiglia Casillo e oggi diviene struttura d'eccellenza dell'ospitality di qualità di Puglia. La crescita di un territorio passa da questi tipi di investimento. È assolutamente la direzione che questa amministrazione vuole intraprendere, motivo per cui noi saremo sempre al fianco di imprenditori, diciamo, illuminati, forse anche visionari, che hanno forse ben compreso che questa è la vera mission della nostra città. Una città che deve offrire servizi sempre più di qualità. Io addirittura direi di lusso, se poco poco ci guardiamo intorno. Sono felice, ne sono felice perché a farlo sono giovani imprenditori tranesi. Trani, perla dell'Adriatico, punta sempre più a divenire la punta di diamante di un turismo del lusso. Trani è una città che ha una grandissima vocazione turistica ed è innanzitutto per la bellezza naturale del suo centro storico e del porto, di tutto quello che è il paesaggio qui attorno a noi, ma anche per la cattedrale, che è sicuramente luogo di grandissimo interesse culturale. Non mancavano in realtà le strutture di qualità Trani, ma questo è un unicum perché concepisce, contiene all'interno tante attività come la spa, l'hotel, la ristorazione e questo rooftop per gli aperitivi. Trani ha una grandissima vocazione sul turismo di qualità e sulla ristorazione, esempio ne sono i tantissimi colleghi che operano da anni benissimo in questo settore. La Guardia di Finanza di Monopoli ha sequestrato sette chili di datteri di mare sotto tutela ambientale che erano stati illegalmente pescati da tre sub lungo la costa di Polignano a mare, a sud di Bari. I tre sono stati denunciati per pesca illegale di specie protetta, mentre i molluschi e l'attrezzatura, cioè bombole da immersione, retini e altro materiale, sono stati sottoposti a sequestro. I datteri poi ancora vitali, su indicazione della ASL, sono stati subito riversati in mare. Sedicesima edizione lo scorso fine settimana del premio Il Gozzo di Monopoli, un riconoscimento che va a individuare eccellenze della nostra terra. Vediamo chi sono i premiati di quest'anno. E andate in porto nella suggestiva cornice di Cala Batteri alla sedicesima edizione del Il Gozzo premio Città di Monopoli. Appuntamento ormai consolidato che riconosce le eccellenze pugliesi che si sono distinte in diversi settori a livello nazionale ed internazionale. Queste le categorie del premio, generazione donna, giovani eccellenti, cultura, informazione, spettacolo e premio della città. Tra i premiati a Giuseppe De Tommaso il riconoscimento per la categoria informazione al regista Alessandro Piva, il premio invece per lo spettacolo. Per la categoria cultura il premio è andato al Marta di Taranto, invece il premio della città di Monopoli assegnato dall'amministrazione comunale è stato conferito al professor monopolitano di origine Nicola Petrosillo, fino a qualche settimana fa direttore di malattie infettive dell'Istituto Spallanzani di Roma e ancora momenti di grande spettacolo con la Rimbabend e gli Italian Tenors. Da Monopoli a Gioia del Colle per un altro evento di grande spessore, il Magna Grecia Wars and Fest che è diventato un festival itinerante, come vedrete tra poco sul palco con il patron dell'evento Fabio Salvatore ci sono stati personaggi di grande rilievo. Vediamo il servizio. A Gioia del Colle si è svolta nel chiostro comunale la prima delle quattro serate previste nell'ambito del festival itinerante il Magna Grecia e World and Fest. Prima un talk show con il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il presidente della provincia di Taranto, Gugliotti e i sindaci di Matera, Bernardi e Gioia del Colle. Mastrangelo, la presenza anche della senatrice Licia Ronzulli, è stato fatto un approfondimento sulle responsabilità dei sindaci durante i 16 mesi di pandemia, ma anche un focus sulla campagna vaccinale in atto e qual è stato il ruolo svolto dai primi cittadini. Un'occasione per il nostro territorio per farsi conoscere, un'occasione anche per dibattere su temi di attualità. Abbiamo una rappresentanza del Lubri, una rappresentanza ovviamente del sindaco De Caro, che rappresenta tutti quanti noi, un costituzionalista che attraverso questo dibattito potrà far emergere quelle che sono le problematiche e le esigenze dei comuni rispetto anche alle riforme che si andranno a discutere nei prossimi mesi. La serata dei Gioia del Colle è stata anche l'occasione per incontrare tre autori di prestigio, Luca Barbarossa, Giovanni Scifoni e Roberto Giacoppo, i quali hanno presentato le loro opere letterarie. Sto facendo una specie di tournée, una volta tanto non fatta di canzoni, di musica dal vivo, ma fatta di racconti, di storie da condividere, di incontri che ho avuto nella vita fortunati da condividere e devo dire che ho portato nel cuore, nella testa una sorta di diario di bordo per tanti anni, non avevo mai deciso di aprire questo diario agli altri e l'ho fatto con questo libro, con Non perderti niente. Tra i presenti anche il costituzionalista Alfonso Cerotto, tutti gli ospiti hanno dialogato sul palco con l'idiatore e organizzatore del Magna Grecia Awards, Fabio Salvatore. Il sistema colori delle regioni va rivisto perché è stato pensato in un momento diverso della pandemia, quando all'aumento dei positivi inevitabilmente dopo poche settimane corrispondeva un aumento dei ricoveri e ancora peggio dei decessi. A sostenerlo l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco che continua, la situazione deve essere monitorata continuamente, aggiunge, però siamo ancora in una situazione da circolazione endemica, senza un impatto evidente sul sistema sanitario, anche perché i vaccini dimostrano di arginare l'ondata pandemica. La vaccinazione, sottolinea, ci sta permettendo spazi di libertà che fino a qualche mese fa erano impensabili, quindi, conclude, calma e nervi saldi, continuiamo ad osservare la situazione e vediamo come si svilupperà. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Bari su un'aggressione avvenuta al quartiere San Paolo, ai danni di un turista su un bus diretto in aeroporto. Il turista, un 67enne diretto a Bergamo, è stato colpito alla testa da un martello in gomma da uno sconosciuto che lo ha derubato del borsone. La vittima, che si trovava in compagnia del figlio minorenne, ha riportato lesioni con 15 giorni di prognosi. Il figlio non è stato coinvolto nell'aggressione. Ad allertare il 112 è stato l'autista che ha fermato il mezzo e ha chiamato anche il 118. Il 67enne è stato medicato al Policlinico di Bari. Dopo il mese di giugno senza rilevazioni preoccupanti da parte dell'ARPA sulla presenza dell'alga tossica, il bollettino delle prime due settimane di luglio non lascia scampo. Concentrazioni da bollino rosso sono state rilevate a giovinazzo nelle vicinanze di Riva del Sole. Lievi concentrazioni, ma di livello non preoccupante, anche a Biceglie, Molfetta, Santo Spirito, San Giorgio e Monopoli. Grazie. 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 Grazie.